Dal Vangelo secondo Marco Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro Andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito Slegatelo e portatelo qui e se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete il Signore ne ha bisogno ma lo rimanderà qui subito Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada e lo slegarono Alcuni dei presenti dissero loro perché slegate questo puledro ed essi risposero loro come aveva detto Gesù E li lasciarono fare Portarono il puledro da Gesù Vi gettarono sopra i loro mantelli Ed egli vi salì sopra Molti stendevano i propri mantelli sulla strada Altri invece delle fronde, tagliate nei campi Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore Benedetto, il regno che viene del nostro padre Davide Osanna, nel più alto dei cieli Parola del Signore Siamo così giunti alla Domenica delle Palme che, come sappiamo bene, è contrassegnata da un forte contrasto La liturgia si apre con la commemorazione dell'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme A cui poi segue la liturgia della parola di questa Domenica delle Palme Con il terzo carme del servo di Yahweh, il testo di San Paolo ai Filippesi E il racconto della passione dell'Evangelista Marco Quando noi commemoriamo e leggiamo il testo dell'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme Sembra che le folle abbiano finalmente intuito chi è Gesù di Nazareth È un ingresso solenne, un ingresso contrassegnato da una grande festa, da tanta gioia ed entusiasmo La folla va incontro al Signore esclamando Benedetto colui che viene nel nome del Signore Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide Osanna nel più alto dei cieli Quindi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme è letto come l'irrompere del regno Secondo le modalità del re Davide Quindi la speranza è quella che finalmente il suo ingresso possa portare l'inizio di un nuovo modo Anzi una riproposizione di quel modello del regno davidico Che tutti speravano si potesse di nuovo realizzare In questo caso attraverso la mediazione di Gesù Quindi possiamo dire che ha una forte connotazione politica il suo ingresso a Gerusalemme Cioè la gente si aspetta che finalmente questo ingresso possa sancire la fine della dominazione romana E possa riportare Israele agli antichi splendori che avevano nel regno di Davide Il loro punto di riferimento, la loro grande speranza Ma già la lettura, la prima lettura del profeta Esaia Che ascolteremo nella liturgia della Passione delle Domenica delle Palme Dà un orientamento completamente diverso In questo terzo carme del servo di Yahweh si dice Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza Non mi sono tirato indietro Ho presentato il mio dorso ai flagellatori e le mie guance a coloro che mi strappavano la barba Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi Questa figura dunque del re è riletta, è reinterpretata Secondo la figura del servo di Yahweh Certo che Gesù è il re, il re davidico Ma non secondo le modalità che si aspettava il popolo di Israele Forse anche qualche capo della comunità di Israele Ora si realizza questo regno messianico attraverso il servo, il servo di Yahweh Possiamo dire che Gesù da questo punto di vista scompagina, fa crollare Un'attesa che fino ad allora era stata così profondamente e intensamente coltivata E infatti anche la seconda lettura che è il famoso inno della lettera ai filippesi Approfondisce questa dimensione del messia davidico secondo una modalità Che è quella non della distruzione degli avversari Quanto piuttosto dello svuotamento di se stesso E infatti dice Paolo Cristo Gesù pur essendo nella condizione di Dio Non ritenne un privilegio l'essere come Dio Ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo E divenendo simile agli uomini E continua facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome Insomma questo Gesù sembra proprio deludente Deludente perché le folle che si aspettavano una irrompere forte del regno di Dio Attraverso la persona di Gesù il messia invece vanno incontro ad un messia sofferente A un messia che svuota se stesso Che non solo ha assunto una condizione umana contrassegnata dalla fragilità Ma addirittura obbediente fino alla morte e alla morte di croce E' lo scandalo, lo scandalo che travolgerà gli stessi discepoli E nel racconto della passione che ascolteremo del Vangelo di Marco L'Evangelista in modo particolare insiste su questa umanità sofferente di Gesù Forse più che ogni altro evangelista Marco descrive un Gesù che assume pienamente Quella paura e quel timore della morte che possiamo dire è patrimonio comune di tutti gli uomini Quando descriverà Gesù nell'orto del Gezzemani Marco non avrà timore nell'evidenziare questi sentimenti di paura e di angoscia Che Gesù affronta nella completa solitudine del Gezzemani Dove i discepoli non sono capaci di vegliare con lui Dove nonostante la sua richiesta insistente Non riescono a sostenere questo momento di grande prova Ma possiamo dire lì nel Gezzemani che avviene il nostro cammino O si realizza il nostro cammino di salvezza Perché Gesù si rivolge al Padre certo come un servo ma anche come un figlio Abba Se questo calice non può passare senza che io lo beva Questa sostanzialmente è la parola di Gesù Allora si compia la tua volontà È in questo abbandono pieno di cui abbiamo parlato domenica scorsa Questo abbandono fiducioso alla volontà del Padre Che compie e realizza la nostra salvezza Leggendo questo testo della Passione forse sarà utile Potrà esserci utile domandarci qual è la figura che più ci rappresenta In questa incedere di Gesù nella completa solitudine La domanda è l'interrogativo che ci possiamo porre Chi sono io? Sono Pietro? Sono uno che consegna come Giuda? Sono una folla così distratta che guarda semplicemente per curiosità? Sono Maria, la madre, le donne che sono presso la croce Insomma c'è una serie impressionante di personaggi Che forse rappresentano tutta la nostra umanità O forse parte anche della nostra umanità E di alcuni sentimenti che in alcuni momenti della nostra vita Assecondiamo Ecco l'apice di questo racconto della Passione di Marco È proprio rappresentato da una proclamazione Che troviamo posta in bocca ad un uomo Forse che non ci saremmo mai aspettati Cioè il centurione romano Dice Marco che Gesù Che il centurione romano Vedendo Gesù morire così Si proclama Questi veramente Era il figlio di Dio Una proclamazione di fede inaspettata Ma che ci dice già Come l'evento della nostra redenzione Realizzato da Cristo Abbia una portata universale Non soltanto Israele sarà invaso Da questo fiume di misericordia Ma tutta l'umanità rappresentata Da questo centurione romano Può essere coinvolta È coinvolta In questo cammino di redenzione Chiediamo al Signore la grazia In questa domenica di Passione Di essere dei contemplativi Cioè più che ragionare Più che meditare Anzi Forse l'aspetto più rilevante Che può scaldare E il nostro cuore E impedirgli E indurirsi È proprio una contemplazione silenziosa Dell'amore di Cristo Per ciascuno di noi Per ciascuno di noi Per ciascuno di noi Per ciascuno di noi E anche se Grazie.